Al via le semifinali dei play-off scudetto della Samsung Gear Volley Cup. Sono da poco terminate infatti le sfide dei quarti di finale, tutte e quattro, terminate allo spareggio della gara 3, davvero emozionanti. Limoco Conegliano, campione in carica, è riuscito a rialzare la testa rimontando su il Bisonte Firenze, grazie anche alla spinta del pubblico di casa. Se infatti al Mandela Forum erano state le Toscana ad aver avuto la meglio al tie-break, le pante erano graffiate al palaverde, concedendo al Bisonte un solo set nel corso delle due successive partite. Le giallo-blu affronteranno in semifinale la Liugio Honor Meccanica Modena, l'unica squadra ad aver sovvertito i pronostici dettati dalla regular season. Le bianco-nere, peggio piazzate in classifica rispetto alla fofa Pedretti Bergamo, hanno avuto la meglio sulle rosso-blu, ribaltando le sorti di una serie, iniziata con una sconfitta al tie-break al pala Panini. Le giocatrici di coach Gaspari però non si sono perse d'animo e dopo aver conquistato gara 2, hanno concesso il Bis anche nel decisivo terzo match, dove hanno battagliato con la fofa sino al tie-break, terminato con il risultato record di 25-23. La seconda semifinale vedrà di fronte la Pumicca Salmaggiore e l'Igor Gorgonzola Novara. Le rosa hanno iniziato i quarti contro la Unet Yamamai Buster Sizio nel migliore dei modi, battendo le farfalle al pala Yamamai al quinto set, ma sono scivolate sul primo match point al pala Radi, quando le bustocche si sono imposte con un netto 3-0. La Pumicca però si è vendicata nell'ultima sfida, approfittando anche dell'assenza di signorile e di una diufa a mezzo servizio a causa di problemi fisici, le Casalasca hanno inflitto un 3-0 alle Biancorosse, strappando il pass per la fase successiva del tabellone. Casalmaggiore quindi si scontrerà con l'Igor Gorgonzola Novara, un grande classico della pallavolo femminile contemporanea. Anche le Azzurre hanno dovuto ribaltare un risultato sfavorevole, dato che la serie dei quarti di finale contro la Savino del Bene Scandicci si era aperta con una sconfitta per 3-0. Al pala Igor però tutta la qualità e la grinta delle piemontesi sono emerse e entrambe le gare sono terminate con risultato favorevole di 3-1. Sarà proprio la sfida tra Novara e Casalmaggiore ad aprire le semifinali, appuntamento per martedì 25 aprile al pala Igor a partire dalle ore 20.30, mentre il match tra Modena e Conegliano è fissato per il giorno successivo alla stessa ora. La corsa per lo scudetto della Samsung Gear Volley Cup entra nel vivo.